Lezione 1. Routine serale. Ciao Anna, com'è la tua routine serale? Ciao John, lo stesso qui. Qual è la tua routine serale? Di solito cucino la cena e guardo la TV. Sembra rilassante. Anche a me piace cucinare. Quali sono i tuoi piatti preferiti da preparare? Mi piace cucinare una varietà di cucine, ma il mio preferito è un semplice piatto di pasta con ingredienti freschi. Sembra delizioso. Dovrò provare la tua ricetta qualche volta. Cosa guardi di solito in TV? Mi piace un mix di spettacoli e film. Ultimamente mi sono appassionato di film polizieschi e documentari. Che mi dici di te? Mi piace una bella commedia o un emozionante film d'azione per rilassarmi. Mi aiuta a rilassarmi dopo una lunga giornata. Ci sono altre attività che svolgi la sera? Cerco di fare qualche esercizio, come fare una passeggiata o fare yoga. Mi aiuta a schiarirmi le idee e a rimanere attivo. È un'ottima idea. Dovrei incorporare anche l'esercizio nella mia routine serale. Hai altri rituali serali? Prima di andare a letto. Mi piace leggere un libro o ascoltare musica rilassante. Mi aiuta a rilassarmi e a prepararmi per un sonno riposante. Leggere e ascoltare musica sembrano attività pacifiche. Prenderò in considerazione l'idea di aggiungerli anche alla mia routine. Qualche consiglio per una migliore routine serale? È importante trovare attività che ti piacciono e che ti aiutino a rilassarti. Inoltre, cerca di limitare il tempo davanti allo schermo prima di andare a letto per una migliore qualità del sonno. Lo terrò a mente. Grazie per il consiglio. È stato interessante conoscere la tua routine serale. Siete i benvenuti. Sono lieto che tu l'abbia trovato interessante. È sempre bello condividere le nostre abitudini quotidiane. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Lo farò. Grazie ancora proverò la tua ricetta di pasta e ti farò sapere come va a finire. Ti auguro una buona serata. Non vedo l'ora di sentirne parlare. Divertiti a cucinare e buona serata anche tu. Ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. Prenditi cura di te e buonanotte. Lezione 2. Elementi essenziali per l'imballaggio Ehi Anna, sto cercando di fare le valigie leggere e portare solo l'essenziale per il mio viaggio. Qualche consiglio su cosa dovrei dare priorità? Ciao John. Questo è un approccio intelligente. Quando si tratta di imballare gli elementi essenziali, pensa a vestiti e articoli versatili che servono a molteplici scopi. Questo ha senso. Quindi, quali capi di abbigliamento consiglieresti per un guardaroba da viaggio leggero? Confeziona alcuni top di base che possono essere mescolati e abbinati a fondi diversi. Inoltre, non dimenticare una giacca leggera e scarpe comode. Buona idea. Mi assicurerò di scegliere oggetti che possano essere facilmente coordinati. Che mi dici di articoli da toilette e articoli per la cura personale? Scegli articoli da toilette da viaggio per risparmiare spazio. Ricorda elementi essenziali come dentifricio, shampoo e crema solare. Non dimenticare anche i farmaci necessari. Gli articoli da toilette da viaggio mi aiuteranno sicuramente a risparmiare spazio. Darò la priorità a questi articoli. Qualche suggerimento per organizzare il mio bagaglio? I cubetti di imballaggio o le piccole borse possono aiutarti a mantenere i tuoi effetti personali organizzati. Arrotola i vestiti invece di piegarli per massimizzare lo spazio e prevenire le pieghe. Imballare cubetti e arrotolare i vestiti sono ottimi consigli. Li proverò. Ci sono altri elementi essenziali che dovrei considerare? Non dimenticare documenti importanti come il passaporto e le informazioni sull'assicurazione di viaggio. Inoltre, porta con te un caricabatterie portatile per i tuoi dispositivi elettronici. Il passaporto, l'assicurazione di viaggio e un caricabatterie portatile sono fondamentali. Li terrò a mente. Che ne dite dell'intrattenimento durante il viaggio? Porta un libro, scarica film o podcast sui tuoi dispositivi o tieni un diario di viaggio per documentare le tue esperienze. È utile avere delle attività da svolgere durante i periodi di inattività. Questi sono ottimi suggerimenti. Mi assicurerò di avere pronte alcune opzioni di intrattenimento. Qualche consiglio dell'ultimo minuto per imballare oggetti leggeri? Ricordati di mettere in valigia solo ciò di cui hai veramente bisogno e di considerare il clima della tua destinazione. Fai attenzione alle restrizioni di peso se voli. Imballare solo ciò di cui ho bisogno e considerare il clima sono punti chiave. Li terrò a mente. Grazie per i tuoi preziosi consigli. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Fai un viaggio fantastico e goditi il tuo imballaggio leggero e senza problemi. Grazie a prezzo i tuoi auguri e la tua guida. Ti farò sapere come va. Ci sentiamo presto. Non vedo l'ora di sapere del tuo viaggio. Abbi cura di te e divertiti. Rimanete in contatto. Viaggi sicuri. Lo farò. Anche tu prenditi cura di te e ci sentiamo presto. Arrivederci. Lezione 3. Velocità Wi-Fi Ehi Anna, il Wi-Fi in questo hotel è veloce? Ciao John, è decente. Non super veloce, ma abbastanza buono per la normale navigazione e streaming. Questo è comodo. Ho bisogno di rimanere in contatto per lavoro e comunicazione. Anche la connessione è stabile? Sì, la connessione è stabile. Finora non ho avuto interruzioni importanti. È bello sentirlo. Una connessione stabile è importante per lavorare senza interruzioni. Esistono restrizioni sull'utilizzo del Wi-Fi? Non è stata menzionata alcuna restrizione specifica. Tuttavia, è sempre una buona idea evitare download o streaming eccessivi per mantenere la stabilità della rete per tutti. Capisco. È importante tenere conto anche dell'uso di Internet da parte degli altri. Sono previsti costi aggiuntivi per l'accesso al Wi-Fi? No, l'accesso Wi-Fi è incluso nei servizi dell'hotel. Non ci sono costi aggiuntivi per questo. È un sollievo. È fantastico che il Wi-Fi sia fornito senza costi aggiuntivi. Esiste una password per la rete Wi-Fi? Sì, c'è una password. Posso condividerla con te. Lascia che te lo scriva. Grazie, lo apprezzo. Avere la password mi renderà più facile connettere i miei dispositivi. Qual è la potenza del segnale Wi-Fi nelle camere? Sì. La potenza del segnale è generalmente buona nella maggior parte delle stanze. Tuttavia, in caso di problemi, si prega di avvisare la reception, che potrà assisterti. Ok, lo terrò a mente. In caso di difficoltà, contatterò la reception per ricevere assistenza. C'è un hotspot Wi-Fi anche nelle aree comuni? Sì, è disponibile un hotspot Wi-Fi nelle aree comuni come la Hall e il ristorante. Puoi connetterti anche lì. Questo è comodo. È bello sapere che posso accedere al Wi-Fi anche nelle aree comuni. Grazie per le informazioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Lo farò. Grazie ancora per l'assistenza. Mi assicurerò di farti sapere se ho bisogno di ulteriore aiuto. Ti auguro una buona giornata. Grazie, sono qui per aiutarti. Ti auguro una splendida giornata anche tu. Goditi il tuo soggiorno e abbi cura di te. Lo apprezzo. Anche tu prenditi cura di te e ci sentiamo presto. Arrivederci. Lezione 4 Avventure culinarie Hey Anna, ho appena provato a fare una ricetta complicata che richiedeva molta pazienza e agitazione, ma il risultato finale ne è valsa la pena. Ciao John, è bello sentirlo. Cucinare può essere un'esperienza gratificante. Che ricetta hai provato? Ho preparato una salsa al caramello fatta in casa partendo da zero. La cottura ha richiesto un po' di tempo e una costante agitazione, ma il caramello ricco e morbido era delizioso. La salsa al caramello fatta in casa sembra incredibile. È vero che alcuni piatti richiedono tempo e fatica, ma il gusto è generalmente eccezionale. Hai altre ricette da non perdere in cucina? Sì, ci sono alcune ricette che volevo provare. Aggiungerò la preparazione della pasta fatta in casa partendo da zero alla mia lista dei desideri di cucina. Fare la pasta fatta in casa è un'idea fantastica. È un processo divertente e soddisfacente. Inoltre, il gusto e la consistenza della pasta fresca sono incomparabili. Ho sentito dire che la differenza è notevole. Sono entusiasta di provarlo. Ci sono altri piatti che consiglieresti di provare? Un piatto che vale la pena provare è il bourguignon di manzo. È un classico stufato francese che richiede una cottura lenta, ma i sapori sono assolutamente deliziosi. Il bourguignon di manzo sembra delizioso. Lo includerò sicuramente nella mia lista dei desideri di cucina. Sembra che la chiave sia avere pazienza e godersi il processo. Assolutamente. La pazienza è importante in cucina. Permette ai sapori di svilupparsi e intensificarsi. Si tratta solo di assaporare il viaggio e il risultato finale. Sono d'accordo. Cucinare può essere una forma di rilassamento e creatività. È incredibile come un po' di pazienza possa trasformare semplici ingredienti in qualcosa di straordinario. Questo è il bello della cucina. Ti permette di esprimere la tua creatività gustando piatti deliziosi. È un'abilità meravigliosa da sviluppare. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di esplorare nuove ricette e migliorare le mie abilità culinarie. È un processo di apprendimento permanente. Cucinare è davvero un viaggio che dura tutta la vita. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e sperimentare. Goditi il processo e divertiti lungo la strada. Grazie per l'incoraggiamento. Apprezzo il tuo supporto e i tuoi suggerimenti culinari. Mi assicurerò di provare quelle ricette. Buona cucina! Lezione 5 Linguaggio universale Ciao Anna, hai mai visto uno spettacolo di danza di una cultura diversa? È incredibile come comunichino senza conoscere la lingua dell'altro. Ciao John, sì, ho visto delle fantastiche esibizioni di danza. La danza è davvero un linguaggio universale che trascende le barriere. È una bellissima forma di espressione. Assolutamente. Il modo in cui i ballerini trasmettono emozioni e raccontano storie attraverso il movimento è affascinante. Mi chiedo come si capiscano senza parole. Il linguaggio del corpo e i gesti svolgono un ruolo significativo nella comunicazione della danza. Trasmettono significato ed emozioni, creando una potente connessione tra i ballerini e il pubblico. Questo è vero. È impressionante come i ballerini sincronizzino i loro movimenti e creino una performance armoniosa. Deve richiedere molta pratica e coordinazione. In effetti, la danza richiede disciplina, dedizione e coordinazione precisa. Provare e lavorare insieme come una squadra è fondamentale per raggiungere quel livello di sincronizzazione. Posso immaginarlo. Deve essere impegnativo ma appagante far parte di una forma d'arte così collaborativa. La danza unisce davvero le persone. Assolutamente. La danza ha il potere di unire persone di diversa estrazione e cultura. È una celebrazione della diversità e dell'umanità condivisa. È affascinante come la danza trascenda le barriere linguistiche e ci permetta di apprezzare e comprendere culture diverse. È come un linguaggio di espressione universale. Hai assolutamente ragione. La danza è un linguaggio universale che parla alle nostre emozioni e ci connette a un livello più profondo. È una bellissima forma di scambio culturale. Non potrei essere più d'accordo. È stimolante vedere come la danza possa favorire la comprensione e l'apprezzamento tra persone di diversa estrazione. È uno dei tanti motivi per cui la danza è così affascinante e amata in tutto il mondo. È una testimonianza delle nostre esperienze ed emozioni umane condivise. Sono grato per l'opportunità di assistere e di essere commosso da diversi spettacoli di danza. È un promemoria della bellezza e della ricchezza del nostro mondo. È meraviglioso che tu apprezzi l'arte della danza. Lasciate che continui a ispirare e ad ampliare i vostri orizzonti. C'è sempre altro da esplorare e imparare. Grazie. Continuerò sicuramente ad esplorare e ad abbracciare il mondo della danza. È un viaggio che sono entusiasta di continuare. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 6. Faccende domestiche Ehi Anna, ho appena passato l'aspirapolvere ai pavimenti, ma ho capito che anche loro devono essere lavati. Alcuni hanno persino bisogno di essere cerati. Ciao John. Prendersi cura dei pavimenti può essere un bel compito. Il lavaggio e la ceratura daranno sicuramente loro un aspetto fresco e raffinato. Sì, voglio assicurarmi che siano pulite e ben tenute. Hai qualche consiglio su come lavare e cerare efficacemente diversi tipi di pavimenti? Diversi materiali di pavimentazione richiedono metodi di pulizia diversi. Per i pavimenti in legno, utilizzare una scopa umida con un detergente delicato. Evitare l'eccesso di acqua per evitare danni. Questo è buono a sapersi. Che dire dei pavimenti in piastrelle o linoleum? Come devono essere puliti? I pavimenti in piastrelle e linoleum possono essere puliti con una miscela di acqua calda e un detergente neutro per pavimenti. Usa una scopa o un panno in microfibra per rimuovere sporco e sporcizia. Lo terrò a mente. E che mi dici della depilazione? Quando devo cerare i pavimenti e con che frequenza deve essere eseguita? La ceratura deve essere eseguita dopo aver pulito accuratamente i pavimenti. Aiuta a proteggere e ripristinare la loro lucentezza. La frequenza della depilazione dipende dal traffico pedonale, ma di solito è sufficiente una volta ogni pochi mesi. Grazie per la guida. Seguirò questi passaggi per assicurarmi che i miei pavimenti siano ben curati. Ci sono altre faccende domestiche su cui mi consigli di concentrarti? Un altro compito importante è spolverare. Una spolverata regolare aiuta a mantenere un ambiente domestico pulito e sano. Usa un panno in microfibra o uno spolverino per rimuovere la polvere dalle superfici. Spolverare è sicuramente importante. Aiuta a tenere a bada le allergie e mantiene la casa in ordine. Mi assicurerò di includerlo nella mia routine di pulizia. Questo è fantastico! Ricorda di prestare attenzione anche alla pulizia delle finestre, alla pulizia dei controsoffitti e all'organizzazione delle aree ingombrate. Fa una grande differenza nella pulizia generale della casa. Assolutamente! Uno spazio pulito e organizzato favorisce un senso di calma e benessere. Mi assicurerò di affrontare anche quelle aree. Grazie per i consigli utili. Siete i benvenuti! È sempre un piacere condividere consigli per la pulizia. Ricorda! Un piccolo sforzo fa molto per mantenere una casa pulita e confortevole. Buona pulizia! Grazie apprezzo il tuo consiglio. Buona pulizia anche a te. Abbi cura di te e buona giornata! Abbi cura anche tu! Trascorri una giornata produttiva e goditi la soddisfazione di una casa perfettamente pulita. Fino alla prossima volta! Fino alla prossima volta! Grazie ancora! Arrivederci! Lezione 7 Intaglio creativo della zucca Ehi Anna, hai mai intagliato una zucca per Halloween? È divertente svuotare la polpa e i semi della verdura e poi fare dei buchi sui lati. Ciao John! Sì! Intagliare la zucca è una tradizione popolare di Halloween. È un modo creativo per esprimere le tue capacità artistiche e creare decorazioni inquietanti. Assolutamente! È emozionante vedere la trasformazione di una semplice zucca in una jack o lantern unica e inquietante. Hai qualche consiglio per intagliare? Quando intagli una zucca, assicurati di sceglierne una robusta con fondo piatto. Ciò renderà più facile il taglio e la visualizzazione. E usa sempre un coltello affilato o strumenti per intagliare la zucca. Un buon consiglio la sicurezza è importante quando si lavora con utensili affilati. Che mi dici del design? Qualche suggerimento per creare una bella faccia da jack o lantern? Puoi iniziare disegnando il tuo disegno sulla zucca con un pennarello lavabile. Quindi, incidi con cura lungo le linee usando movimenti lenti e costanti. Ricordati di conservare i semi di zucca per la tostatura. Sembra un piano. Cercherò di creare un design unico e di prendermi il mio tempo mentre intaglio. Arrostire i semi di zucca sembra un gustoso bonus. I semi di zucca tostati sono deliziosi. Dopo aver pulito i semi, puoi condirli con sale, pepe o altre spezie, quindi cuocerli in forno fino a renderli croccanti. Gnam! Ci proverò sicuramente. È ottimo utilizzare la zucca intera e ridurre al minimo gli sprechi. Esistono altri modi creativi per decorare le zucche? Assolutamente. Puoi dipingere zucche con colori acrilici, usare adesivi o pennarelli per creare disegni o persino provare a intagliare motivi complessi per un aspetto più dettagliato. Sono idee fantastiche. Dipingere o usare adesivi può essere un'ottima alternativa per chi preferisce non intagliare. Aggiunge più varietà alle decorazioni. Infatti, la decorazione a forma di zucca consente una creatività senza fine. È un'occasione per dare libero sfogo alla tua immaginazione e rendere le tue decorazioni di Halloween davvero uniche. Sono entusiasta di iniziare il mio progetto di intaglio di zucche ora. Grazie per l'ispirazione e i suggerimenti. Halloween sarà molto divertente. Siete i benvenuti. Goditi il processo di intaglio e decorazione della tua zucca. È un modo meraviglioso per abbracciare lo spirito di Halloween. Divertiti da matti. Lo farò. Grazie ancora ti auguro una fantastica giornata. Fino alla prossima volta. Lezione 8. Piani di viaggio e destinazione. Ciao Anna, hai pianificato un viaggio di recente? Sono curioso di sapere dove hai intenzione di andare e quando. Ciao John. Ci stavo pensando. Voglio visitare Londra ad agosto. Ho sempre voluto esplorare la città e scoprirne la ricca storia e la vivace cultura. È un'ottima scelta. Londra ha così tanto da offrire, da monumenti iconici come il Big Ben e la Torre di Londra a musei di fama mondiale e splendidi parchi. Ti divertirai moltissimo. Non vedo davvero l'ora. Ho sentito parlare del British Museum, di Buckingham Palace e di quartieri affascinanti come Notting Hill. Qualche consiglio sui luoghi imperdibili? Assolutamente. Oltre alle famose attrazioni, suggerisco di visitare Kenden Market per lo shopping e lo street food unici, fare una passeggiata lungo la riva sud del Tamigi ed esplorare il vivace Coven Garden. Sembrano incredibili. Li aggiungerò sicuramente al mio itinerario. Che ne dici del trasporto? Qualche consiglio per spostarsi in città in modo semplice ed efficiente? Londra ha un esteso sistema di trasporto pubblico, compressi gli iconici autobus rossi a due piani e la metropolitana, nota anche come tube. Ottieni una carta Oyster per viaggiare in modo comodo ed economico. È utile saperlo. Mi assicurerò di procurarmi una Oyster Card e di utilizzare i mezzi pubblici. Ci sono cose specifiche che dovrai tenere a mente mentre visito Londra? Una cosa da ricordare è guardare a destra quando si attraversa la strada, poiché il traffico scorre sul lato sinistro nel Regno Unito. Inoltre, preparati ai cambiamenti climatici, quindi è una buona idea portare un ombrello o una giacca leggera. Grazie per il consiglio. Mi assicurerò di stare attento al traffico e di fare le valigie di conseguenza. Non vedo l'ora di immergermi nella vibrante atmosfera di Londra. Ti divertirai moltissimo. Londra è una città che offre qualcosa per tutti. Sfrutta al massimo il tuo viaggio e crea ricordi indimenticabili. Divertiti. Grazie apprezzo il tuo entusiasmo. Farò in modo che ogni momento conti. Viaggiare è un modo meraviglioso per ampliare gli orizzonti e conoscere nuove culture. Assolutamente. Viaggiare apre un mondo di possibilità e ci aiuta a crescere come individui. Ti auguro una fantastica avventura a Londra. Viaggi sicuri. Grazie e apprezzerò l'esperienza. Fino alla prossima volta. Abbi cura di te e buona giornata. Anche tu. Abbi cura di te e ti auguro una fantastica giornata. Fino alla prossima volta. Arrivederci. Lezione 9. Affrontare le sfide. Ciao Anna. Ti sei mai messa alla prova a fare qualcosa al di fuori della tua zona di comfort? Può essere molto gratificante. Ciao John. Assolutamente. Uscire dalle nostre zone di comfort ci aiuta a crescere e imparare. È importante sforzarsi e abbracciare nuove esperienze. Immagino tu abbia ragione. All'inizio può intimidire, ma spesso porta allo sviluppo personale e a nuove opportunità. Hai qualche consiglio per affrontare le sfide? Un consiglio è quello di suddividere la sfida in passaggi più piccoli e gestibili. Ciò lo rende meno impegnativo e ti consente di concentrarti su un'attività alla volta. Questo è un ottimo approccio. Fare piccoli passi aiuta a creare fiducia e a progredire costantemente. C'è qualcos'altro che devo tenere a mente quando affronto delle sfide? Un'altra cosa importante è mantenere una mentalità positiva. Credi in te stesso e nelle tue capacità. Accetta il processo e sii aperto all'apprendimento sia dai successi che dai fallimenti. Sono d'accordo. Un atteggiamento positivo può fare una grande differenza. È anche utile chiedere il sostegno di amici, familiari o mentori in grado di fornire assistenza e incoraggiamento. Assolutamente! Circondarti di una rete di supporto può aumentare la tua motivazione e fornire informazioni preziose. Insieme possiamo ottenere più di quanto possiamo fare da soli. Questo è vero. La collaborazione e la ricerca di aiuto quando necessario possono rendere più gestibili le attività impegnative. È importante ricordare che non dobbiamo fare tutto da soli. Ricordati di celebrare i progressi e i traguardi raggiunti lungo il percorso. Riconosci l'impegno che dedichi e le lezioni che impari durante il viaggio. Celebrare i traguardi è un ottimo modo per rimanere motivati e apprezzare il duro lavoro. Aggiunge un senso di realizzazione alla sfida. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Accettare le sfide è un'opportunità di crescita e scoperta di sé. Ti auguro buona fortuna mentre intraprendi nuove ed entusiasmanti imprese. Grazie apprezzo il tuo supporto. È stimolante avere conversazioni che incoraggino la crescita personale. Fino alla prossima volta. Buona giornata. Lezione 10. Giudicare gli altri. Ciao Anna. Hai mai giudicato qualcuno in base al suo aspetto senza conoscerlo prima? Dicono di non giudicare un libro dalla copertina. Ciao John. Assolutamente. Non è giusto odiare qualcuno solo perché non assomiglia a quello che vuoi che assomigli. Dovremmo dare alle persone una possibilità e conoscerle prima di formarsi un'opinione. Hai ragione e è importante avvicinarsi agli altri con una mente aperta e abbracciare la diversità. Ogni persona ha una storia e una prospettiva uniche che vale la pena esplorare. È così vero. Dovremmo celebrare le nostre differenze e imparare gli uni dagli altri. È incredibile quante cose possiamo scoprire quando guardiamo oltre le apparenze. Assolutamente. Dedicando del tempo a comprendere il background e le esperienze di qualcuno, possiamo sfidare i nostri pregiudizi e coltivare empatia e comprensione. L'empatia è fondamentale. Metterci nei panni di qualcun altro ci aiuta a vedere il mondo dalla sua prospettiva e favorisce connessioni e compassione più profonde. Non potrei essere più d'accordo. È importante ricordare che la bellezza sta nella diversità e dovremmo apprezzare la ricchezza che apporta alle nostre vite. Ben detto. Stereotipi e nozioni preconcette limitano la nostra capacità di connetterci con gli altri in modo autentico. Cerchiamo di rompere queste barriere e costruire comunità inclusive. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Incoraggiamo gli altri ad abbracciare la diversità e a sfidare i propri pregiudizi. Insieme possiamo creare un mondo più accogliente. Assolutamente. Inizia con ognuno di noi che fa uno sforzo consapevole per avere una mentalità aperta e accettare. Le piccole azioni possono avere un grande impatto. Questo è vero. Ricordiamoci di trattare gli altri con gentilezza e rispetto, indipendentemente dal loro aspetto. Non conosciamo mai le incredibili storie e personalità nascoste sotto la superficie. Ben detto. È un viaggio che dura tutta la vita per disimparare i nostri pregiudizi e abbracciare la bellezza delle differenze. Continuiamo a crescere e imparare insieme. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per questa conversazione perspicace. È un promemoria per guardare sempre oltre le apparenze e apprezzare l'unicità di ogni individuo. Siete i benvenuti. Anch'io sono contenta che abbiamo avuto questa conversazione. Continuiamo a diffondere il messaggio di accettazione e comprensione. Vi auguro una splendida giornata. Anche tu. Abbi cura di te e continuo a far luce sull'importanza dell'empatia. Alla prossima. Arrivederci e a presto. Lezione 11. Aumentare la produttività con l'automazione. Ehi Anna, hai mai pensato di implementare processi di automazione per migliorare la produttività? Può essere un punto di svolta. Ciao John. Assolutamente. L'automazione può semplificare le attività, risparmiare tempo e ridurre gli errori. È un modo efficace per aumentare la produttività in varie aree. Questo è vero. Automatizzando le attività ripetitive e banali, possiamo liberare tempo prezioso e concentrarci su un lavoro più strategico e creativo. Avete esempi di processi di automazione? Un esempio è l'utilizzo di software per automatizzare l'immissione e l'analisi dei dati. Invece di inserire ed elaborare manualmente i dati, possiamo lasciare che sia la tecnologia a gestirli, facendoci risparmiare ore di lavoro. Questo è un ottimo esempio. L'automazione può essere applicata anche alla gestione delle e-mail, alla pianificazione e persino alla pubblicazione sui social media. Semplifica le attività di routine e migliora l'efficienza. Assolutamente. Un'altra area in cui l'automazione brilla è il servizio clienti. I chatbot possono fornire risposte e supporto istantanei, liberando gli agenti umani per richieste più complesse. Sono d'accordo. I chatbot sono in grado di gestire domande di base e fornire risoluzioni rapide, migliorando l'esperienza complessiva del cliente. È una soluzione vantaggiosa sia per le aziende che per i clienti. Sicuramente. L'automazione si estende anche alla gestione dei progetti. Strumenti come i Task Tracker e i Promemoria automatici aiutano i team a rimanere organizzati e a rispettare le scadenze senza sforzo. Questo è un punto prezioso. L'automazione nella gestione dei progetti garantisce flussi di lavoro fluidi, riduce il follow-up manuale e mantiene tutti sotto controllo. Semplifica la collaborazione. Lo fa. Non dimentichiamo l'e-commerce. L'automazione può semplificare la gestione dell'inventario, l'elaborazione degli ordini e la spedizione, rendendo più efficienti le aziende online. Assolutamente. Con l'automazione, i rivenditori online possono gestire grandi volumi di ordini con facilità, riducendo gli errori e migliorando la soddisfazione dei clienti. È un punto di svolta. Lo è davvero. L'automazione offre numerosi vantaggi in tutti i settori. Consente alle aziende di scalare le operazioni, aumentare la produttività e concentrarsi su iniziative strategiche. Non potrei essere più d'accordo. Adottare l'automazione è una mossa intelligente nel mondo frenetico di oggi. Ci consente di fare di più con meno sforzi. Qualche pensiero finale sull'automazione? Solo un promemoria. Sebbene l'automazione possa portare molti vantaggi, è importante trovare un equilibrio. Dovremmo comunque dare valore all'interazione umana e all'adattabilità in determinate situazioni. Questo è un ottimo punto. L'automazione dovrebbe integrare le competenze umane, non sostituirle completamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio per ottenere risultati ottimali. Precisamente. Esploriamo le possibilità di automazione mantenendo intatto il nostro tocco umano. Grazie per questa interessante conversazione. È stato illuminante. Siete i benvenuti. Sono lieto che abbiamo avuto questa discussione. Continuiamo a esplorare i modi per sfruttare l'automazione e migliorare la produttività. Fino alla prossima volta. Buona giornata produttiva. Lezione 12 Esplorazione del valore del cibo gourmet Ciao Anna, hai mai provato cibo gourmet? Alcuni dicono che sia più costoso del cibo normal, ma penso che ne valga la pena. Ciao John, assolutamente. La cucina gourmet offre sapori unici e ingredienti di alta qualità. Può essere più costoso, ma l'esperienza e il gusto sono spesso eccezionali. Questo è vero. Il cibo gourmet spesso coinvolge chef esperti e tecniche culinarie complesse. È una delizia per i sensi e può elevare l'esperienza culinaria. Esattamente. I piatti gourmet sono preparati con cura e attenzione ai dettagli. Mostrano una creatività e un'esperienza gastronomica che possono essere davvero notevoli. Non potrei essere più d'accordo. Il cibo gourmet può farci conoscere nuovi sapori e ingredienti che forse non abbiamo mai incontrato prima. Amplia i nostri orizzonti culinari. Assolutamente. È come intraprendere un'avventura culinaria. Il cibo gourmet ci permette di esplorare diverse cucine e concederci squisite combinazioni di gusto. È un ottimo modo per dirlo. Il cibo gourmet è spesso preparato con i migliori ingredienti, di provenienza locale o internazionale, garantendo una qualità eccezionale. Sì. La qualità degli ingredienti utilizzati nei cibi gourmet può fare una differenza significativa nel gusto e nell'esperienza culinaria complessiva. È un marchio di eccellenza. Sono d'accordo. Il cibo gourmet è spesso associato a occasioni speciali o celebrazioni. Aggiunge un tocco di lusso e raffinatezza a quei momenti. Sicuramente. È un modo per celebrare e apprezzare l'arte e l'artigianalità, che servono alla creazione di eccezionali delizie culinarie. E non dimentichiamo la presentazione. Il cibo gourmet è spesso ben servito, attraente sia per il palato che per gli occhi. Hai assolutamente ragione. L'aspetto visivo del cibo gourmet si aggiunge all'esperienza culinaria complessiva. È come un'opera d'arte sul piatto. Infatti. Il cibo gourmet può essere una delizia deliziosa, che offre una pausa dai pasti quotidiani e crea esperienze culinarie memorabili. Assolutamente. Si tratta di assaporare il momento e godersi il cibo come un'esperienza, piuttosto che un semplice mezzo di sostentamento. Ben detto. Sebbene il cibo gourmet possa avere un prezzo più elevato, il valore che apporta in termini di gusto, qualità ed esperienza spesso ne vale la pena. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di trovare un equilibrio e concedersi cibo gourmet in occasioni speciali o quando vogliamo davvero concederci qualcosa. Questa è un'ottima prospettiva. Il cibo gourmet può essere un modo per apprezzare le cose belle della vita e creare ricordi duraturi. Grazie per questa interessante conversazione. Lezione 13. Bilanciamento delle priorità e definizione dei limiti. Ciao Anna. Gestire le priorità può essere difficile, ma cerco di stabilire delle priorità e stabilire dei limiti. E tu? Ciao John. Assolutamente. A volte può essere opprimente, ma trovo che stabilire priorità e limiti chiari mi aiuti a rimanere concentrato e produttivo. Questo è un ottimo approccio. Identificando ciò che è importante e stabilendo dei limiti, possiamo allocare il nostro tempo e le nostre energie in modo più efficace. Esattamente. La definizione delle priorità ci consente di affrontare per prime le attività più critiche, assicurandoci di fare progressi su ciò che conta davvero. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di distinguere tra compiti urgenti e importanti e dedicare la nostra attenzione di conseguenza. Assolutamente. Stabilire dei limiti è altrettanto importante. Significa imparare a dire di no quando necessario e proteggere il nostro tempo e le nostre risorse. Questo è un punto prezioso. I confini ci aiutano a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata e a prevenire il burnout. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Sì. È essenziale stabilire aspettative chiare con i colleghi e comunicare efficacemente i propri limiti per evitare di impegnarsi troppo. Sono d'accordo. Una comunicazione efficace è fondamentale per stabilire i limiti. Garantisce che gli altri comprendano i nostri limiti e rispettino le nostre esigenze. Sicuramente. È importante ricordare che i confini non sono restrizioni ma piuttosto linee guida che ci aiutano a rimanere concentrati e a mantenere il nostro benessere. Ben detto. Stabilendo dei limiti, creiamo una struttura che ci consente di lavorare in modo efficiente e dedicare tempo alla crescita personale e alla cura di sé. Assolutamente. Si tratta di trovare l'equilibrio tra produttività e prendersi cura di noi stessi. Dare priorità al nostro benessere è essenziale. Non potrei essere più d'accordo. Quando diamo priorità alla cura di sé, ci ricarichiamo e diamo il meglio di noi stessi sia nel lavoro che nella vita personale. Questa è un'ottima prospettiva. Si tratta di dedicare con attenzione il nostro tempo e le nostre energie, concentrandoci su ciò che conta davvero per noi. Infatti. Stabilendo dei limiti, prendiamo il controllo dei nostri orari e creiamo spazio per ciò che ci porta gioia e appagamento. Hai assolutamente ragione. È un processo continuo di valutazione e aggiustamento, che individua ciò che funziona meglio per noi e si adatta secondo necessità. Sono d'accordo. È un viaggio continuo alla scoperta di sé e all'apprendimento per superare efficacemente le nostre priorità e i nostri confini. Grazie per questa conversazione approfondita. Lezione 14. Pianificazione anticipata per una gita di un giorno. Ciao Anna, c'è altro che dovremmo pianificare in anticipo per la nostra gita di un giorno? Forse possiamo scaricare una mappa della zona. Ciao John. Ottima idea. Avere una mappa sui nostri dispositivi sarebbe utile. Possiamo facilmente navigare ed esplorare le attrazioni in modo efficiente. Assolutamente. È sempre bene essere preparati e avere un senso dell'orientamento, soprattutto quando si visita un posto nuovo. Sì. Una mappa può mostrarci i luoghi imperdibili, i punti di riferimento e persino i servizi nelle vicinanze come ristoranti o servizi igienici. Questo è vero. Ci consente di pianificare il nostro percorso e sfruttare al massimo il nostro tempo, assicurandoci di non perdere nessun punto chiave. Esattamente. Possiamo anche verificare eventuali restrizioni di viaggio, chiusure o eventi speciali che si verificano nella zona. Questo è un punto prezioso. Rimanere informati sulle condizioni locali e su eventuali aggiornamenti può aiutarci a evitare inconvenienti. Assolutamente. È anche una buona idea ricercare le opzioni di trasporto, come gli orari degli autobus o dei treni, per ottimizzare i tempi di viaggio. Sono d'accordo. Conoscere i metodi di trasporto disponibili può salvarci da inutili attese e rendere la nostra giornata più efficiente. Sicuramente. Inoltre, dovremmo prendere in considerazione l'idea di mettere in valigia articoli essenziali come acqua, snack, crema solare e scarpe comode per il viaggio. È un ottimo promemoria. Essere preparati con le scorte giuste ci assicura di rimanere idratati, protetti e a nostro agio per tutto il giorno. Sì. È anche utile disporre di un caricabatterie di riserva per i nostri dispositivi nel caso in cui sia necessario ricaricarli durante l'esplorazione. Assolutamente. I nostri dispositivi possono fornire informazioni preziose e aiutarci a catturare i ricordi, quindi mantenerli alimentati è essenziale. Hai ragione infine. Controlliamo le previsioni del tempo per vestirci in modo adeguato ed essere pronti a eventuali cambiamenti imprevisti. È un consiglio saggio. Essere consapevoli delle condizioni meteorologiche ci permette di vestirci comodamente ed essere preparati alla pioggia o al sole. Sicuramente. Pianificando in anticipo e considerando questi fattori, possiamo sfruttare al meglio la nostra gita di un giorno e vivere un'esperienza memorabile. Non potrei essere più d'accordo. La preparazione e l'organizzazione contribuiscono notevolmente a garantire un'avventura fluida e piacevole. Grazie per questa interessante conversazione. Lezione 15. Presentazione dei dati con grafici. Ciao Anna. Hai preso in considerazione l'utilizzo di grafici per supportare i dati? Può rendere la nostra presentazione più coinvolgente e informativa. Ciao John. Ottima idea. I grafici sono rappresentazioni visive che possono aiutare le persone a comprendere più facilmente informazioni complesse. Assolutamente. Forniscono un modo chiaro e conciso per presentare i dati ed evidenziare tendenze o modelli. Sì. I grafici possono essere particolarmente utili quando si confrontano diversi set di dati o si illustrano le modifiche nel tempo. Questo è vero. I grafici a barre, i grafici a linee e i grafici a torta sono opzioni popolari che possono visualizzare efficacemente vari tipi di dati. Esattamente. I grafici a barre sono utili per confrontare le quantità, mentre i grafici a linee mostrano tendenze e cambiamenti nel corso di un periodo. Sono d'accordo. I grafici a torta, d'altra parte, sono ottimi per visualizzare proporzioni o percentuali all'interno di un intero. Sicuramente. Quando si creano grafici, è importante scegliere etichette, titoli e scale appropriati per fornire chiarezza. Questo è un punto prezioso. Un'etichettatura chiara aiuta il pubblico a comprendere i dati e a interpretare le informazioni in modo accurato. Sì. È anche importante selezionare colori e design adatti che siano visivamente accattivanti e facili da distinguere. Assolutamente. L'uso di colori contrastanti ed evitare il disordine può rendere i grafici visivamente più accattivanti e accessibili. Hai ragione inoltre. È utile fornire una breve spiegazione dei punti chiave del grafico per guidare il pubblico. È un consiglio saggio. Riassumere i punti principali del grafico può migliorare la comprensione e rafforzare il messaggio. Sicuramente. E se presentiamo i dati in una presentazione, possiamo animare i grafici per rivelare le informazioni gradualmente. Sono d'accordo. L'animazione aggiunge un elemento di sorpresa e mantiene il pubblico coinvolto mentre svegliamo i dati passo dopo passo. Assolutamente. Si tratta di presentare i dati in modo da affascinare il pubblico e comunicare efficacemente le informazioni. Non potrei essere più d'accordo. I grafici sono strumenti potenti che possono migliorare le nostre presentazioni e rendere i dati più memorabili. Ottimo suggerimento. Apprezzo la tua completezza. È essenziale considerare vari aspetti quando si utilizzano i grafici per presentare i dati in modo efficace. Siete i benvenuti. Sono lieto che abbiamo avuto questa discussione. Continuiamo a esplorare modi creativi per presentare le informazioni. Fino alla prossima volta, buona creazione grafica. Buona rappresentazione grafica. Che le nostre presentazioni future siano d'impatto e visivamente accattivanti. Fino alla prossima volta. Arrivederci e abbi cura di te. Arrivederci. Abbi cura di te e continua a impegnarti per presentazioni coinvolgenti. Alla prossima, arrivederci e a presto. Lezione 16. Utilizzo dei grafici per migliorare la presentazione dei dati. Ciao Anna. Hai pensato di incorporare grafici nella nostra presentazione dei dati? Possono aumentare l'impatto e migliorare la comprensione. Ehi John. È un'idea fantastica. I grafici forniscono una rappresentazione visiva che aiuta a trasmettere informazioni complesse in modo efficace. Assolutamente. Ci consentono di presentare i dati in modo conciso e coinvolgente, rendendo più facile per il pubblico cogliere le informazioni chiave. Sì. I grafici sono particolarmente utili per illustrare tendenze, confronti e proporzioni in modo visivamente accattivante. Giusto. I grafici a barre sono ottimi per confrontare diverse categorie o quantità, mentre i grafici a linee mostrano le modifiche nel tempo. Esattamente. Inoltre, i grafici a torta possono visualizzare in modo efficace proporzioni o percentuali all'interno di un intero insieme, rendendoli ideali per mostrare la distribuzione. Apprezzo la tua completezza. È importante selezionare il giusto tipo di grafico che rappresenti al meglio i dati che vogliamo trasmettere. Assolutamente. Inoltre, dovremmo prestare attenzione all'etichettatura e ai titoli dei nostri grafici per fornire un contesto chiaro al pubblico. Questo è un punto prezioso. Una corretta etichettatura garantisce che le informazioni siano facilmente comprensibili e previene qualsiasi confusione. Sì. Dovremmo anche considerare l'utilizzo di colori contrastanti e design semplici per rendere i nostri grafici visivamente accattivanti e facili da interpretare. Sicuramente. Immagini chiare con colori distinti e minimo ingombro aiuteranno il pubblico a concentrarsi sulle informazioni essenziali. Hai assolutamente ragione. Un altro aspetto importante è fornire una breve spiegazione o un riepilogo dei principali punti salienti del grafico. È un consiglio saggio. Riassumere i punti chiave aiuta a guidare l'attenzione del pubblico e rafforza l'importanza dei dati. Assolutamente. Infine, se stiamo presentando in digitale, l'animazione dei grafici può creare un elemento di sorpresa e affascinare il pubblico. Sono d'accordo. L'animazione può dare vita ai dati e coinvolgere il pubblico mentre riveliamo diversi aspetti delle informazioni. Sicuramente. Utilizzando i grafici in modo efficace, possiamo migliorare le nostre presentazioni dei dati e garantire che il messaggio sia trasmesso in modo chiaro. Non potrei essere più d'accordo. L'incorporazione di grafici è un ottimo modo per comunicare i dati e rendere la nostra presentazione più efficace. Ben fatto. Grazie credo nel potere della visualizzazione dei dati. Continuiamo a esplorare modi per presentare le informazioni in modo creativo. Fino alla prossima volta. Buona creazione grafica. Buona rappresentazione grafica. Che le nostre presentazioni future siano visivamente coinvolgenti e informative. Fino alla prossima volta. Arrivederci e abbi cura di te. Lezione 17. Il primo giorno di scuola di Jessica. Ciao Anna. Indovina un po'? La mamma di Jessica la accompagna in classe il primo giorno di scuola. Ehi John, è adorabile. È bello vedere i genitori sostenere i propri figli durante traguardi così importanti. Assolutamente. Jessica deve sentirsi confortata sapendo che sua madre è lì per guidarla nella nuova esperienza. Sì. Avere un volto familiare al suo fianco aiuterà Jessica ad entrare in classe e a sentirsi più a suo agio. Questo è vero. È essenziale che i bambini stabiliscano un legame positivo con il loro insegnante. Sicuramente. L'insegnante di Jessica svolge un ruolo cruciale nel farla sentire benvenuta e nel promuovere un ambiente di apprendimento sicuro. Sono d'accordo. Un insegnante cordiale e invitante può avere un impatto significativo sulla prima impressione che un bambino ha della scuola. Sì. L'insegnante di Jessica dovrebbe accoglierla con un sorriso e farla sentire entusiasta del viaggio di apprendimento che ci aspetta. Questo è un punto prezioso. Creare un'atmosfera positiva incoraggerà l'entusiasmo di Jessica per l'istruzione. Assolutamente. È importante che l'insegnante presenti Jessica ai suoi compagni di classe e la aiuti a fare nuove amicizie. Sicuramente. Costruire connessioni sociali con i colleghi farà sentire Jessica più a suo agio e supportata. Sì. Le amicizie in classe contribuiscono alla felicità e all'impegno complessivi di un bambino a scuola. Giusto. L'insegnante di Jessica può facilitare attività rompighiaccio per promuovere l'interazione tra gli studenti. Apprezzo la tua premura. Attività coinvolgenti incoraggeranno Jessica a partecipare e a sentirsi inclusa. Grazie. È fondamentale che l'insegnante di Jessica sia paziente e comprensiva mentre si adatta al nuovo ambiente. Assolutamente. Un insegnante compassionevole può aiutare Jessica a superare ogni nervosismo iniziale e ad aumentare la sua fiducia. Non potrei essere più d'accordo. Il primo giorno di scuola di Jessica dovrebbe essere un'esperienza emozionante e memorabile. Sicuramente. Speriamo che la prima impressione di Jessica sulla sua insegnante e sui suoi compagni di classe dia il tono per un viaggio accademico di successo. Sì. Auguro a Jessica un futuro radioso pieno di conoscenza, crescita e meravigliose amicizie. Saluti. Lezione 18. Sicurezza nel laboratorio scientifico. Salve Anna. Quando conduciamo esperimenti, abbiamo sicuramente bisogno di segnali di sicurezza e istruzioni chiare per garantire il benessere di tutti. Ciao John. Hai assolutamente ragione. La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità assoluta, specialmente nel laboratorio scientifico. Assolutamente. I segnali di sicurezza svolgono un ruolo cruciale nell'avvisarci di potenziali pericoli e guidarci su come stare al sicuro. Sì. La segnaletica chiara e visibile ci aiuta a identificare le zone pericolose, le uscite di emergenza e le attrezzature di sicurezza del laboratorio. Giusto. È importante che tutti siano a conoscenza della posizione e dell'uso corretto delle attrezzature di sicurezza come estintori e stazioni per il lavaggio degli occhi. Sicuramente. In caso di emergenza, sapere dove trovare e come utilizzare questi strumenti di sicurezza può fare una differenza significativa. Assolutamente. Inoltre, fornire istruzioni chiare per ogni esperimento è essenziale per ridurre al minimo i rischi e prevenire gli incidenti. Sì. Istruzioni chiare delineano le procedure, le precauzioni e le misure di sicurezza adeguate da seguire durante l'esperimento. È corretto. È fondamentale leggere e comprendere a fondo le istruzioni prima di iniziare qualsiasi esperimento. Assolutamente. Seguire le istruzioni con precisione e utilizzare l'attrezzatura corretta può aiutare a prevenire incidenti e garantire risultati accurati. Sicuramente. Dovremmo anche incoraggiare una comunicazione aperta tra i membri del team per discutere di eventuali dubbi o domande sulla sicurezza. Sì. La collaborazione e la comunicazione creano un ambiente favorevole in cui tutti si sentono a proprio agio nel sollevare problemi relativi alla sicurezza. Giusto. Promuovendo una cultura attenta alla sicurezza, promuoviamo pratiche responsabili e informate nel laboratorio scientifico. Assolutamente. È importante ricordare che la sicurezza è una responsabilità condivisa e dovremmo prenderci cura l'uno dell'altro. Non potrei essere più d'accordo. Ogni persona ha un ruolo da svolgere nel mantenere un ambiente di apprendimento sicuro e protetto. Sicuramente. Diamo sempre la priorità alla sicurezza e assicuriamo che tutti in laboratorio siano a conoscenza delle precauzioni necessarie. Sì. Implementando la segnaletica di sicurezza, fornendo istruzioni chiare e promuovendo una comunicazione aperta, possiamo creare un laboratorio scientifico sicuro e produttivo. Assolutamente. Insieme, facciamo della sicurezza un aspetto fondamentale dei nostri sforzi scientifici. Ben detto. Continuiamo a dare priorità alla sicurezza mentre esploriamo le meraviglie della scienza. Fino alla prossima volta, abbi cura di te. Lezione 19. Elevare i sapori in cucina Ciao Anna. Hai mai provato ad aggiungere un pizzico di cumino e una spruzzata di succo di lime ai tuoi piatti? Eleva davvero i sapori. Ehi John. Sì. Adoro usare il cumino e il succo di lime nella mia cucina. Aggiungono una meravigliosa profondità di sapore a vari piatti. È fantastico. Il cumino ha un gusto caldo e terroso che esalta il profilo saporito generale di un piatto. Assolutamente. È una spezia versatile che si adatta bene sia alle ricette a base di carne che a quelle vegetariane. Sicuramente. E quando aggiungi una spruzzata di succo di lime, apporta un elemento rinfrescante e piccante al piatto. Sì. Il succo di lime aggiunge una nota brillante e agrumata che bilancia i sapori e aggiunge un tocco piccante. Giusto. Può trasformare un semplice piatto in qualcosa di vivace ed eccitante. Assolutamente. Uso spesso cumino e succo di lime nei piatti di ispirazione messicana e indiana per aggiungere un tocco di sapore in più. Sicuramente. Si abbinano eccezionalmente bene a piatti come tacos, guacamole, curry e carni alla griglia. Sì. Sono come un esaltatore di sapidità che accompagna le papille gustative in un viaggio delizioso. È un ottimo modo per descriverlo. È incredibile come una piccola aggiunta possa fare una grande differenza nel gusto generale. Assolutamente. Si tratta solo di sperimentare e trovare il giusto equilibrio di sapori che piaccia al palato. Sicuramente. La cucina è un processo creativo e spezie come il cumino e il succo di lime ci permettono di esplorare nuove dimensioni del gusto. Sì. Aggiungono complessità e profondità ai nostri piatti, rendendoli più piacevoli e memorabili. Giusto. È come sbloccare un mondo completamente nuovo di sapori incorporando questi semplici ingredienti. Assolutamente. Quindi la prossima volta che cucini, non dimenticare di cospargere un pizzico di cumino e dargli una spruzzata di succo di lime. Sicuramente. È un segreto culinario che può davvero elevare i tuoi piatti a un livello completamente nuovo. Buona cucina. Buona cucina anche a te. Continuiamo a esplorare e sperimentare i sapori nelle nostre avventure culinarie. Fino alla prossima volta. Abbi cura di te. Abbi cura di te. Continuiamo a scoprire modi entusiasmanti per stuzzicare le nostre papille gustative. Alla prossima, arrivederci e a presto. Lezione 20. Sostituti vegani della carne. Ciao Anna. Hai provato a usare dei sostituti della carne nelle tue ricette vegane? Lo cercherò sicuramente la prossima volta che cucino. Ciao John. È fantastico. Quali sono alcune popolari alternative alla carne che consiglieresti? Bene. Tofu e tempe sono due opzioni versatili che possono essere utilizzate in una varietà di piatti. Interessante. Qual è la differenza tra tofu e tempea? Il tofu è prodotto con cagliata di soia e ha una consistenza morbida e delicata, mentre il tempe è ottenuto da semi di soia fermentati e ha una consistenza più soda e ricca di noci. Capisco. Ci sono altri sostituti della carne oltre al tofu e al tempea? Assolutamente. Il seitan, a base di glutine di frumento, è un'altra scelta popolare. Ha una consistenza gommosa e può essere condito per imitare il sapore della carne. Questo è affascinante. Esistono altre opzioni a base vegetale per i sostituti della carne? Sì. I funghi, come il portobello o lo shiitake, possono essere usati per creare una consistenza carnosa e un ricco sapore di umami nei piatti. Wow, non avrei mai pensato di usare i funghi in quel modo. Qualche altro suggerimento? Le lenticchie e i fagioli, come i ceci o i fagioli neri, sono ottime fonti di proteine e possono essere schiacciati o trasformati in polpette come sostituto della carne macinata. Questo è fantastico. Esplorerò sicuramente queste opzioni e sperimenterò diversi sapori e consistenze. Assolutamente. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te e per le tue preferenze di gusto. Sicuramente. Sono entusiasta di provare questi sostituti della carne e scoprire nuove ricette vegane. È meraviglioso. Incorporare sostituti della carne può aprire un intero mondo di deliziosi e salutari pasti a base vegetale. Non potrei essere più d'accordo. È un modo fantastico per esplorare nuovi sapori e contribuire a uno stile di vita più sostenibile. Lezione 21. Trovare le migliori offerte. Ciao Anna. Confronti i prezzi prima di acquistare qualcosa? Sì, cerco sempre di trovare le migliori offerte. Ehi John. Assolutamente. È importante confrontare i prezzi per assicurarci di ottenere il massimo rapporto qualità-prezzo. Giusto. Dove cerchi di solito le migliori offerte? Bene. Mi piace controllare diversi rivenditori online e confrontare i prezzi per vedere se ci sono sconti o promozioni disponibili. Questo è un buon approccio. Esistono siti web o app specifici che ritieni utili? Sì. Uso spesso siti web e app per il confronto dei prezzi che raccolgono informazioni da vari venditori, facilitando il confronto dei prezzi. Sembra conveniente. Puoi consigliare piattaforme specifiche per il confronto dei prezzi? Certo. Alcuni popolari includono PriceGrabber, Google Shopping e CamelCamel per tenere traccia della cronologia dei prezzi su Amazon. Grazie per i suggerimenti. Li darò sicuramente un'occhiata e vedrò come possono aiutarmi a trovare le migliori offerte. Siete i benvenuti. Vale sempre la pena dedicare del tempo a confrontare i prezzi, soprattutto per gli articoli di grandi dimensioni. Assolutamente. Può farci risparmiare una notevole quantità di denaro a lungo termine. Giusto. E non dimenticare di considerare fattori come i costi di spedizione e le recensioni dei clienti quando confronti i prezzi. Buon punto. È importante tenere conto del valore complessivo, non solo del prezzo. Esattamente. A volte vale la pena un prezzo leggermente più alto se abbinato a una migliore qualità o servizio clienti. Sono d'accordo. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra prezzo e valore. Questa è la chiave. Confrontando i prezzi, possiamo prendere decisioni informate e ottenere il massimo dai nostri sudati guadagni. Assolutamente. Continuiamo a fare acquisti esperti e a cercare quelle fantastiche offerte. Fino alla prossima volta, abbi cura di te. Ciao Anna. Mi interessa conoscere culture diverse. Hai preferenze o consigli? Ciao John. È meraviglioso. Immergersi in culture diverse può essere un'esperienza affascinante. Quali aspetti ti interessano particolarmente? Sono aperto ad esplorare vari aspetti come il cibo, le tradizioni, la musica e l'arte. Hai qualche suggerimento su dove iniziare? Suggerisco di iniziare con la cucina locale. Provare piatti autentici di culture diverse può darti un assaggio delle loro tradizioni e sapori culinari. Sembra delizioso. Qualche tipo di cucina specifica che consigli di provare? Che ne dite di iniziare con la cucina tailandese? È noto per i suoi sapori vivaci e le spezie aromatiche. Il pad thai e il curry verde sono piatti popolari. La cucina tailandese sembra intrigante. Quali altre esperienze culturali suggeriresti? Puoi anche esplorare spettacoli di musica e danza tradizionali. Molte culture hanno strumenti musicali e stili di danza unici che vale la pena provare. Sembra accattivante. Ci sono paesi o regioni specifici noti per la loro musica e danza? Sì, ad esempio, il flamenco in Spagna, la musica e la danza tradizionali giapponesi o i ritmi ritmici della batteria africana. Ognuno offre un'esperienza culturale diversa. Il flamenco, la musica giapponese e la batteria africana sembrano tutti affascinanti. Ne prenderò nota. Che mi dici di arte e architettura? Visitare musei e monumenti iconici può fornire informazioni sugli stili artistici e architettonici di una cultura. Ad esempio, il Louvre a Parigi o il Taj Mahal in India. Il Louvre e il Taj Mahal sono sicuramente sulla mia lista. Ci sono altre attività culturali che dovrei prendere in considerazione? Partecipare a feste e celebrazioni locali è un modo fantastico per vivere in prima persona le tradizioni e i costumi di una cultura. Può essere piuttosto coinvolgente e divertente. Questo è un ottimo suggerimento. Mi assicurerò di dare un'occhiata ai festival durante i miei viaggi. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Il rispetto per le usanze e le tradizioni locali è essenziale quando si incontrano culture diverse. Imparare alcune frasi di base nella lingua locale può anche migliorare le interazioni. Apprezzo questo consiglio. Il rispetto e la comunicazione sono fondamentali. Sono entusiasta di intraprendere questa esplorazione culturale. Sono entusiasta per te. È un viaggio che allargerà i tuoi orizzonti e creerà ricordi duraturi. Goditi le tue avventure culturali. Grazie, la tua guida è preziosa. Mi assicurerò di abbracciare a pieno ogni esperienza culturale. Grazie, la tua guida è preziosa.